Qui nasce il movimento. Qui lavoriamo per produrre la magia della sincronia perfetta. L'armonia del moto è frutto di un attento lavoro di squadra. Qui lo sviluppiamo da oltre cinque decenni. Di anno in anno lo perfezioniamo in un costante miglioramento dei processi e del prodotto. Qualità. Innovazione. Tecnologia. Miglioramento continuo. Questi sono i valori riflessi nello stabilimento di Maniago, centro di eccellenza per la sua efficienza e capacità produttiva. La sfida dell'industria oggi è quella di essere in grado di rinnovarsi, di migliorare il suo prodotto, di essere sempre più veloce. Qui, noi, siamo pronti. Sappiamo che per avere macchine affidabili, sicure, veloci, occorre un cuore meccanico perfetto. La velocità e la forza di una macchina nascono dall'eccellenza della sincronia. L'innovazione inizia qui, dalla progettazione del movimento. E qui, noi, inseguiamo la perfezione senza fermarci. Mai. SIAP. Azienda in movimento.